Più di un'ombra è calata nelle ultime settimane sul mondo delle organizzazioni non governative che si occupano anche di soccorso in mare dei migranti. Indiscrezioni e illazioni su possibili contatti e interessi con gli scafisti, in mancanza di informazioni ancora certe, rischiano di mettere a repentaglio che si trova a contatto con l'emergenza e con il salvataggio di vite umane. Oxfam Italia, confederazione internazionale di organizzazioni no profit impegnata nella riduzione della povertà globale attraverso aiuti ai progetti di sviluppo mirati, non ha il minimo dubbio sul ruolo delle ONG e sul loro fondamentale apporto. L'abbiamo vissuto un po' esternamente, non svolgendo attività di soccorso in mare. L'abbiamo vissuto con la solidarietà verso i colleghi che invece questo lavoro lo fanno e nella certezza che quanto emergerà scagionerà grandissima parte delle accuse che ad oggi sono soltanto illazioni, indizi, ma che non hanno una base provatoria. Le attività che svolgono le ONG in mare non le dovrebbero svolgere le ONG. Le ONG semplicemente vanno a tappare una falla che è quella dell'Europa che non svolge questa attività. Il Mediterraneo quest'anno ha visto ancora più di mille morti da primo gennaio ad oggi. Continua a non esserci la volontà politica da parte degli Stati membri di porre attenzione ai corridoi umanitari per fare arrivare in maniera sicura le persone che fuggono da guerre, situazioni di varia gravità dai loro paesi in Europa in maniera sicura e quindi questo poi genera tutta un'altra serie di attività che comunque restano attività umanitarie coordinate dalla Guardia Costiera che quindi in qualche modo le ONG si trovano a dover fare per mandato umanitario, per propria costituzione direi e che invece non riescono a essere svolte dall'Unione Europea e dalle istituzioni.